Oh, una giornata splendida. Ricordo che il tappo più tardi è cambiato, vero? Oh, James, è così bello rivedere tutto questo. Anna, guardati. Bellissima. Ti torna in mente qualcosa? Forse uscire potrebbe aiutarla a ricordare. No, 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 ha bisogno di... Capre. Abbiamo le capre. Sorprendente. Comincia a ricordare. Non posso crederci. Spingere. Solo a ricordare. Grazie a tutti.